Studi in Svizzera e desideri fare la differenza a livello nazionale e internazionale? Allora sei nel posto giusto. Siamo la VSS UNES-USU, l'Unione Svizzera degli Universitari. Siamo un'organizzazione mantello e rappresentiamo le organizzazioni studentesche di tutta la Svizzera. Lavoriamo insieme per tutelare i tuoi diritti e per rappresentare le tue esigenze. Studiamo nelle università, nelle scuole universitarie professionali, nelle alte scuole pedagogiche e nei politecnici federali. Come si può partecipare all'USU senza impegno? Nelle nostre commissioni. Qui puoi essere attivo senza la necessità di conoscenze pregresse e fare davvero la differenza. L'OPOCO è la Commissione Politica per l'Istruzione Superiore dell'USU. Essa si occupa di questioni di politica educativa di attualità, nel contesto della politica educativa nazionale, o che dovrebbero diventarlo. L'OPOCO funge da Laboratorio di Idee per l'USU, analizzando aree di interesse e identificando i problemi che ne derivano, per poi formulare e presentare richieste e preoccupazioni degli studenti. Contatti importanti sono i vari uffici federali, i partiti politici e le amministrazioni universitarie. E tu puoi decidere quali temi avviare. Anche senza alcuna esperienza pregressa, è possibile partecipare attivamente e, ad esempio, avere voce in capitolo nei grandi comitati, nell'organizzare eventi, nel contribuire con idee e così via. Potrai inoltre acquisire competenze preziose, ampliare la tua rete di contatti e fare esperienze importanti che potranno esserti utili nella tua carriera futura. Inpegnati ora per un futuro migliore nelle nostre università. Contattaci senza impegno all'indirizzo info-vss-unes.ch o scrivici sui social media. Non vediamo l'ora di conoscerti! Grazie a tutti!